Capitolo 35 Verso il tramonto, Cam venne a prendermi per andare al minigolf. Lo aspettai sotto al portico e quando lui fermò la macchina nel vialetto, gli corsi incontro. Invece di entrare dal lato passeggero, andai verso quello del conducente. «Posso guidare io?» gli chiesi. Sapevo che avrebbe accettato. Cam scosse il capo e disse in tono sarcastico «Come si fa a dirti di no?» Io lo guardai sbattendo le ciglia. «Infatti non me lo dice nessuno», risposi, anche se non era vero per nulla. Aprì la portiera e lui si spostò. Uscendo in retromarcia dal vialetto, gli dissi «Stasera devo tornare a casa presto». «Non c'è problema». Si schiarì la gola. «E... puoi rallentare un pochino? Il limite è 50 su questa strada». Mentre guidavo, lui mi guardava e sorrideva. «Che c'è? Cos'hai da sorridere?» gli chiesi. «Avrei voluto nascondere la faccia sotto alla maglietta. Il tuo nasino all'insù è proprio minuscolo». Allungò una mano e mi ci diede un colpetto. Io gliel'allontanai con una pacca. «Io odio il mio naso». Cam parve perplesso. «Perché è così carino? Sono le imperfezioni a rendere belle le cose». Mi domandai se intendesse dire che mi considerava bella. Mi domandai se era per questo che gli piacevo, per le mie imperfezioni. Finimmo per restare fuori più a lungo di quanto avevo programmato. «Le persone davanti a noi stavano un'infinità di tempo a ogni buca. Erano una coppia e si fermavano per baciarsi. Era irritante. Avrei voluto strellare. Il minigolf non è un luogo in cui si va per pomiciare. Per quello esistono i drive-in». E poi a Cam venne fame, perciò ci fermammo a mangiare i molluschi fritti. A quel punto erano ormai le dieci e sapevo che mia madre e Susanna erano già andati a letto. Al ritorno Cam mi lasciò di nuovo guidare. Non abbi neppure bisogno di chiederglielo. Mi consegnò semplicemente le chiavi. Nel vialetto di casa spensi il motore. Tutte le luci erano spente, tranne quella di Conrad. «Non ho ancora voglia di rientrare», dissi a Cam. «Ma non dovevi rientrare presto?» «Beh, sì, però non ne ho voglia». Accesi la radio e restammo seduti ad ascoltare la musica per cinque minuti. Poi Cam si schiari la gola e disse «Posso baciarti?». Desiderai che non me lo avesse chiesto. Avrei voluto che lo facesse pasta. Quella richiesta mi fece sentire impacciata e mi mise nella condizione di dover accettare. Avrei voluto alzare gli occhi al cielo e invece risposi «D'accordo, la prossima volta però non chiedermelo per cortesia. Chiedere a qualcuno se vuole baciarti è strano. Dovresti farlo e basta». Non appena vedi l'espressione di Cam, mi pentì di aver parlato in maniera così impulsiva. «Non importa», disse rosso in volto. «Dimentica che te l'abbia chiesto?». «Cam, scusa». Prima che potessi finire, lui si sporse verso di me e mi baciò. Aveva la guancia ispida, perciò fu un bacio ruvido ma piacevole. Quando finì mi disse «Va bene». Io sorrisi e risposi «Va bene». Sganciai la cintura di sicurezza. «Buonanotte». Poi uscii dalla macchina e lui fece il giro per sedersi sul lato del conducente. Ci abbracciamo e mi ritrovai a sperare che Conrad ci stesse osservando. Anche se non aveva importanza, anche se non provavo più niente per lui. Volevo soltanto che sapesse che non mi piaceva più, che lo vedesse con i suoi occhi. Corsi alla porta d'ingresso e non ebbi bisogno di girarmi per sapere che Cam avrebbe atteso finché non fossi entrata. Il giorno seguente mia madre non mi rimproverò, ma non ce ne fu bisogno. Riusciva a farmi sentire in colpa anche senza dire una parola.